Buonasera a tutti, come sapete i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande i due colleghi di Roma Radio e Roma TV, ci aiuteranno a porgerle a Mr. Fonseca, è presente invece in sala l'inviato di Sky Angelo Mangiante, a cui lasciamo la parola. Buongiorno, in una partita contro il Sassuolo che è secondo in classifica e ha dei valori tecnici anche molto elevati, riuscirà a recuperare due leader come Smalling e Veretout? No, non sono pronti per la partita. Smalling ha allenato oggi con la squadra, sta meglio, aspettiamo nella prossima settimana di avere Smalling con la squadra, ma Veretout ho deciso di rischiare per la partita di domani. Rimane a questo punto l'emergenza in difesa perché non ha neppure Gianluca Mancini, allora le chiedo se ad esempio uno tra Fazio e Kumbulla, che saranno appunto convocati immagino, è pronto a rientrare dal primo minuto. Vediamo domani, la verità è che non abbiamo molti difensori centrali in questo momento, ma la verità è anche che Fazio e Kumbulla, che si hanno fermato tanti giorni, non sono le migliori condizioni fisiche. Ma vediamo domani se qualcuno giocherà. Domanda da parte dell'Ansa, si aspettava che Smalling rimanesse fuori così a lungo? È preoccupato che il fastidio al ginocchio possa trasformarsi in un infortunio più serio? No, penso che non si trasformerà in un infortunio più serio. Ha questo problema in ginocchio, oggi ha iniziato a allenarsi, ha sentito bene, penso che ritornerà brevemente. Gazzetta dello Sport, Pellegrini-Vigliar possono essere una coppia oppure rispetto a tanta qualità che possono mettere manca un po' di fisicità? Anche in questa posizione non abbiamo molte soluzioni. Adesso giocherà due dei tre, Pellegrini-Vigliar o Diawara. Domanda da parte del Corriere della Sera. Lo scorso anno Roma-Sassuolo 4 a 2, Sassuolo-Roma 4 a 2. Ci dobbiamo aspettare un'altra partita con sei gol o la Roma affronterà il Sassuolo con una diversa conoscenza dell'avversario? Sono due squadre offensive, Roma e Sassuolo. Mi piace molto il modo di giocare di Sassuolo. È una squadra che ha vinto le quattro partite che ha giocato fuori. È una squadra che offensivamente è molto forte. mi aspetta una partita aperta, una partita in cui due squadre vogliono avere la palla, il controllo della partita. Ma sarà sicuramente una partita difficile contro un Sassuolo che sta molto bene. Il Romanista. In fase offensiva il Sassuolo ha un perfetto tempismo nelle giocate. È la squadra in cui i giocatori cadono meno in fuorigioco. Ha avuto poco tempo per preparare la gara. Si è concentrato di più sull'attacco o su come difendere contro questi attaccanti? Come sempre, in tutti i momenti della partita abbiamo preparato una strategia difensiva e offensiva. anche negli altri due momenti di transizione offensiva e difensiva. È vero che non abbiamo avuto molto tempo ma abbiamo preparato la squadra per tutti i momenti della partita. Domanda del Corriere dello Sport che le chiede. Calafiori ha dimostrato di essere pronto a giocare in prima squadra. Vista l'emergenza in difesa sta pensando di confermarlo con Spinazzola tra i centrali? E poi cosa pensa della politica della società sui giovani? Tutti, Calafiori compreso, hanno rinnovato o stanno per rinnovare il contratto? Io ho una visione un po' diversa da voi. Per me Calafiori è un giovane che ha talento ma che deve migliorare, che deve imparare, che deve crescere. Perché è un giovane, è normale che sia così. Per voi è il miglior del mondo in questo momento. Penso che questo non è un cammino certo per aiutare un giovane. Per me ha fatto una buona partita. È un giovane che mi piace perché sta crescendo. È un giovane che noi crediamo per il futuro ma è pronto. Non è più che in questo momento. Il tempo. È stato scritto che ieri ha provato i Bagnez con Bulla Fazio. Sarà la difesa di domani? Volevo sapere tutto per domani. Vediamo domani chi giocherà. Anche Teleradio Stereo chiede, nel caso in cui Veretù non ce la facesse e non ce la farà, a giocare. Chi si sposa meglio per giocare accanto a Pellegrini, Travigliare e Diavara? Io ho già parlato. Delle tre giocano due. Rete Sport. Domani contro il Sassuolo giocherà Mirante o sta pensando di dare fiducia a Paolo Lopez? Dalla prossima settimana, quando terminerà l'Europa League, ci sarà più ballottaggio per le gare di campionato? Sono tante partite che io penso solo in una delle volte. Io ho scelto il portero per domani, ma non ho pensato che devo fare dopo questa partita. Domanda di Centrosuono Sport. Affrontate una squadra che ha l'ossessione della costruzione dal basso giocando dentro. dobbiamo aspettarci una Roma più aggressiva del solito in pressione alta per impedire l'uscita comoda al Sassuolo? Voi volete sapere chi gioca, come giocheremo nel momento difensivo, nel momento offensivo? Magari è meglio non vedere la partita domani perché prima della partita sappiamo tutto. Vediamo domani come sarà. Domanda da parte nostra. È un campionato molto diverso rispetto alle passate stagioni, da molte opportunità a molte squadre. Proprio la presenza del Sassuolo lì al vertice ne è probabilmente la conferma. Le chiedo, mister, è sorpreso di questo inizio di campionato, di come sta andando questa prima parte di Serie A? Come, se si colloca in maniera diversamente la Roma e soprattutto se per lei domani è uno scontro diretto per la zona Champions League contro questo Sassuolo? Per me devo dire una cosa, Sassuolo sta in questa posizione con tutto il merito. che hanno meritato perché stanno giocando molto bene. Dopo, non sono sorpreso. Abbiamo qui sette, otto, nove squadre che sono forti. e questo è chiaro, questa classifica dimostra l'equilibrio che esiste qui in questo momento. Il campionato sta forte, con squadre molto forti. Per questo non sono sorpreso. Domanda da parte nostra. Abbiamo visto che la risposta sul campo da parte dei giocatori che hanno giocato meno è stata quasi sempre all'altezza. In questo i meriti sono più del gruppo squadra unito, dei singoli giocatori chiamati in causa o suoi che è riuscito a motivarli? Della squadra e dei giocatori. Quando si vince è più facile, perché quando ha un'identità è più facile per il giocatore entrare. E dopo sono dei giocatori che capiscono che quando hanno l'opportunità è il momento di dimostrare che possono essere opzioni per la squadra. Per me questo è molto positivo, sentire che tutti i giocatori sono pronti per aiutare la squadra, per giocare. Per me questo è molto buono. Grazie. Andiamo? Un attimo.